La commessa tra me e lei, se lui Berlusconi passa la fiducia con 10 voti in più, lei si dimette? Guardi, le prometto che comincio a credere a Babbo Natale e siccome avendo 59 anni non credo a Babbo Natale accetto la commessa. Insomma, Fini non crede a Babbo Natale e ce l'ha annunciato. Allora, Berlusconi e la calamita nei confronti dei centristi, abbiamo anche tutta la questione, sembra un po' il calciomercato, a quanto pare, della compravendita di voti. Se poi questo è vero, perché d'altra parte lo sappiamo stiamo proprio assistendo a un duello, a uno scontro, direi proprio a questo punto frontale tra Fini e Berlusconi. Sì, su questo termine compravendita c'è molto da dire, nel senso che a mio avviso non si tratta assolutamente di compravendita quando parliamo di un voto che deve essere dato nei confronti di un programma, perché parliamo qui di deputati, senatori, ma soprattutto deputati che sono stati eletti con la PDL, sto parlando di quelli di Fini, e che oggi devono condividere un programma del tutto diverso che è quello di far cadere un governo per il quale sono stati eletti, con il quale sono stati eletti e per la realizzazione del programma loro sono entrati in Parlamento. Ora, il fatto di dire che Berlusconi o i suoi dicano a questi signori, siete disposti e fino a che punto a far cadere questo governo e quindi a passare all'opposizione, un conto è dire mediamo le situazioni che oggi ci sono, un conto è arrivare alla rottura finale. Per cui a mio avviso non si tratta di compravendita, si tratta di convincimento nei confronti di queste persone che devono completamente cambiare casacca. A mio avviso ci sono persone critiche, che è giusto che lo siano, all'interno del partito di Fini, ma che non sono disposte ad arrivare alle estreme conseguenze, questo è il punto. Non si tratta di compravendita anche perché, voglio dire, questo è sempre successo, esattamente come quando doveva cadere il governo Prodi per due voti al Senato. In effetti si dice che Fini abbia calcato un po' troppo la mano, che forse la fiducia da parte di alcuni, non ultimo il discusso moffa, potrebbe proprio dipendere dal fatto che in partenza si era deciso di fondare futuro e libertà per mettere magari in discussione alcune posizioni di Berlusconi, ma forse non si era pensato di dover arrivare alla rottura. Invece con la convention Umbra, Fini è arrivato esattamente alla rottura e forse può essere che abbia disatteso quelle che erano in partini all'inizio, le aspettative di coloro i quali si sono distaccati dal PDL per unirsi a lui. Questa potrebbe essere un'interpretazione. Esattamente così, perché il famoso patto delle Colombe, il filone più moderato di future libertà, dice esattamente questo. Dice che noi eravamo critici, lo siamo ancora nei confronti di un Berlusconi che eccede, che esagera nel dare importanza alla Lega piuttosto che all'area di ex AN e quant'altro, però non siamo disposti ad andare a casa o comunque a far cadere Berlusconi che è il premier per il quale noi siamo stati eletti. Questo è un po' la tesi. E a mio avviso Fini si è fatto prendere un po' la mano, come al solito dai falchi, Bocchino, Granata, quelli che in effetti hanno interpretato nel modo più duro la lotta intanto interna nei confronti dei vari Larussa, Alemanno e tutti quelli che sono rimasti nel PDL. E c'è una lotta personale a mio avviso tangibile che si percepisce. E poi proprio nei confronti delle decisioni, nei confronti del governo, cioè hanno interpretato questo ruolo come una guerra totale, mentre gli altri no, volevano esclusivamente un minimo di equilibrio che a mio avviso è giusto ed è giustificabile.